Vi faccio vedere velocemente il portamonete che ho preso per Alessandro non è grande quindi sta su qualsiasi pantalone qui dentro con qualche monetina da 2 euro c'ha quello che gli può servire per comprarsi un panino, patatine o qualche sfizzetto se sta con gli amici quindi man mano può cominciare a essere autonomo a comprarsi qualcosa se chiaramente ci sono carboidrati in quello che compra mi fa una telefonata e magari una fotografia su whatsapp o mi dice magari un alimento da me conosciuto e telefonicamente facciamo il volo insieme la caratteristica del portafoglio da Alessandro è che deve essere piccolo eventualmente con degli spazi in questo caso ci ho messo una bustina di zucchero ma una volta messi i soldi qui ci stanno i soldi abbastanza per arrivare a 10 euro ancora in vuoto potrei metterci carboidrati vedete questa è la mia mano chi ha bisogno di avere piccoli dispositivi elettronici perché link o altro è abbastanza grande ci entrerebbe nel mio caso la cosa importante è che non si perde e quindi come ho fatto anche già per il telefono la leggo al corpo tramite un moschettone e un dispositivo di questo genere anche questo qua è in vendita su Aliexpress credo sicuramente anche su Amazon vedete com'è fatto costa e allungabile quindi adesso la lunghezza diventa con una mano sola non ce la faccio ma diventa molto molto lungo almeno almeno il doppio rispetto quindi uno lo prende dalla tasca e si muoveva agevolmente questo dovrebbe costare tipo un euro compreso spese di spedizione forse tipo c'è un'offerta che con un euro e venti ne danno tre un euro e cinquanta ne danno tre su Aliexpress cercate portachiami molla e lo trovate questo qua ugualmente su Aliexpress dovrebbe essere costato sicuramente sotto i due euro credo un euro e venti quindi scrivete portamonete o portafoglio su Aliexpress mettete prezzo massimo due euro e vedete che tra le varie scelte vi scapperà fuori anche questa qua ok è una soluzione abbastanza carina per cominciare a dare Alessandro il suo primo portafoglio e vedete che